carissimi cittadini amici e fedeli ducchi di sinise buongiorno sono qui nella chiesa di san francesco a ricordarvi che ormai la settimana santa e alle porte e proprio per questo voglio comunicarvi trasmettervi qualche avviso ovvero il parroco ogni giorno celeberà il triduo pasquale con le sue funzioni le sue celebrazioni a porte chiuse senza concorso di popolo mentre potrete seguire i riti della settimana santa in streaming e su youtube quelli celebrai dal vescovo dalla diocesi e quelli per televisione ufficiati dal santo padre papa francesco ecco perché a questo messaggio allegheremo un manifestino con tutti gli orari e gli appuntamenti del vescovo e del paolo noi parteciperemo ci uniremo spiritualmente a queste celebrazioni con dei piccoli gesti ovvero sono qui con i componenti della protezione civile e con alcuni operatori autorizzati della caritas autorizzati sia dalla forza pubblica i carabinieri che dal comando degli urbani perché da stamattina e per qualche giorno distribuiremo in maniera ordinata e a titolo totalmente gratuito questo kit che vi presentiamo che conviene una palma che appenderete al balcone non tenete in casa ma al balcone il gioco delle palme e poi questo manifestino che riproduce il nostro crocifisso e la nostra madonna adorata e questo lumino che appenderete al balcone ed esporrete fuori dal balcone il lumino la sera del venerdì santo facciamo insieme questo gesto in modo tale che ci saremo tutti uniti e così passando per le nostre strade vedendo manifestino lumino e palma sapremo che tutti stiamo partecipando con il cuore a queste celebrazioni in attesa di rivederci tutti in chiesa in tempi e in momenti migliori buona giornata grazie suoneremo alle porte e da giù nessuno entrerà nella nostra casa vi chiederemo di scendere a prendere quello che li stiamo portando in queste prossime ore buona giornata a tutti grazie